Marco partiamo dalle tue condizioni, come procede il tuo iter di recupero e se si può già ipotizzare quando potremo rivederti in campo? No, sto bene, sono passati quasi cinque mesi, manca ancora qualche giorno, però il ginocchio risponde bene, fisicamente anche il muscolo risponde, quindi in teoria da settimana prossima dovrei ricominciare piano piano col gruppo, quindi sono felice di questo, mi mancava. Ecco, hai subito detto fin dall'inizio di questa stagione che comunque pur essendo assente eri partecipato al gruppo, seguivi la squadra, quanto è stato difficile dover vedere le partite a bordo campo e quindi quanta voglia hai adesso di riprenderti il tuo posto al centro della difesa? No, tanta, la voglia è tanta di ricominciare perché comunque facciamo questo, diciamo che nel male è andata bene che ne hanno giocate poche, ne avessero giocate di più sarei stato molto più arrabbiato e impotente di fronte a eventuali partite o allenamenti, quindi mi sarei sentito sicuramente molto più giù a livello di morale, però il fatto di riavvicinarmi al campo, il fatto di poter ricominciare con loro e di intravedere la luce in fondo al tunnel mi dà grande forza e soprattutto grande voglia di ricominciare. In base alla tua esperienza te lo aspettavi così questo campionato di Serie C, così rognoso, ogni partita con tanti risultati a sorpresa che stanno un po' caratterizzando tutte le cosiddette grandi di questo campionato? Sicuramente abbiamo avuto modo di conoscerlo negli anni passati, la Serie C è sempre un campionato difficile dove ci sono tante sorprese, ogni partita è a sé, sono partite tutte difficili, le squadre sono tutte rognose come hai detto bene tu e difficili da affrontare, molto spesso si sbloccano le partite o comunque si risolvono per delle situazioni, quindi non basta giocare bene, ma bisogna avere quel qualcosa in più, quella cattiveria, quella voglia di portare a casa il risultato che alla fine poi ti consente di vincere le partite. Forse lo dirà al campo, però che cosa porterà Marco Chiosa quando tornerà nell'11 Bianco Celeste? Spero che lo dica al campo, però ti posso dire che sicuramente aiuterà i tanti ragazzi giovani che comunque fanno parte del gruppo e cercherò di portare le mie qualità e la mia esperienza all'interno del gruppo e dare una mano alla squadra. Grazie a tutti.